Una delegazione di consiglieri regionali è salita sino al 35esimo piano del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte per verificare l'avanzamento dei lavori del Grattacielo progettato da Massimiliano Fuxas, futura sede dell'Ente. Tra loro il Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e il Vice Presidente della Giunta Aldo Reschigna. Siamo nel cantiere del nuovo Grattacielo della Regione, nel Palazzo Unico della Regione. Abbiamo con noi l'architetto Robino, responsabile dei lavori, a cui chiediamo a che punto è architetto il Grattacielo. Siamo al 42esimo, ormai i lavori termineranno verso la primavera dell'anno prossimo. È un edificio che può ospitare fino a 2.000 persone di capienza massima. È previsto che tutta la Giunta regionale si posizioni in questo edificio. L'altezza massima sarà in toni di 205 metri lineari, compresa la veletta di copertura, il che significa avere qui realizzato praticamente il Grattacielo più alto d'Italia.